Un breve percorso a piedi per tornare a casa si è trasformato in un incubo per una ragazza di 19 anni e per il fratellino di 10, che nella serata di ieri stavano percorrendo via provinciale per San Vito. Sono stati bloccati da un uomo. Dopo aver strattonato la ragazza e schiaffeggiato anche il fratellino, ha preso il bambino e ha iniziato a correre verso i binari di via Osanna, un rapimento sotto gli occhi della sorella e di alcuni automobilisti attorno alle 20 e 30. L'uomo, un 29enne originario del Gambia, è stato bloccato dagli agenti della sezione volanti della questura di Brindisi e poi condotto in carcere. È accusato di sequestro di persona, lesioni personali e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Le urla della ragazza hanno attirato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiamato il numero unico europeo per le emergenze. La telefonata è stata immediatamente girata alla pattuglia che era in zona per un servizio di controllo. Chiesto anche l'intervento di altre pattuglie per delimitare la fuga. Gli agenti hanno visto il 29enne correre con il bambino in braccio e sono riusciti a raggiungerlo poco dopo il passaggio a livello. Mentre uno dei poliziotti lo ha bloccato, l'altro ha liberato il bambino. Sotto shock il piccolo e la sorella che sono stati affidati alle cure del personale del 118. Hanno riportato lividi in alcune parti del corpo. Per entrambi sarà difficile riuscire a dimenticare quanto accaduto. Sul posto sono arrivati anche i genitori che hanno voluto ringraziare i poliziotti. Il 29enne, stando a quanto è stato accertato dai controlli in questura, è in possesso di regolare permesso di soggiorno in Italia ma ha precedenti per atti osceni davanti a minorenni e per minaccia con l'uso di un coltello. Sotto sequestro il suo zaino all'interno c'erano alcune catene e altri oggetti contundenti. La prima informativa di reato è stata già trasmessa in procura all'attenzione del pubblico ministero di turno in vista dell'udienza di convalida. Non è escluso che la procura possa chiedere il processo per direttissima.